Sapevate che in Pokémon Artigold e SoulSilver un Pokémon è stato scoperto 10 anni dopo il rilascio dei suddetti giochi? Vediamo un po' in quanti si ricordavano questa cosa e mi raccomando ragazzi, anche un bel mi piace e il supporto qui sotto. La faccenda ha veramente dell'incredibile, ma nel 2020 un utente chiamato Alucard ha scoperto che a Fiorisopoli, e più precisamente nel centro Pokémon, un utente ci darà infiniti tentacool per evitare di bloccarci il gioco. Se dovessimo quindi in questa rare eventualità essere sprovvisti di Pokémon che imparano surf, volo o mosso del genere, beh questo NPC ci sarà molto utile e all'epoca fu una scoperta veramente incredibile, 10 anni dopo il rilascio dei remake di Yoto. Chissà se prima o poi verranno fuori altre cose del genere in altri giochi Pokémon, lo vedremo.